Amici oggi ci concentriamo sul diritto di Novak Djokovic, la prima cosa che mi piace sottolineare è come nello split step tra un colpo e l'altro Nole ha questa inclinazione del busto con il baricentro molto avanti rispetto ai piedi, vedete come la testa è ampiamente avanti rispetto alla posizione dei piedi, questo gli consente di avere sempre una posizione ben piantata per terra e ben presente, la prima parte di movimento è importantissima che compie Nole, guardiamo come la testa della racchetta grazie alla pronazione della mano ha questo cambio di posizione, va a pronare la mano e a girare il piatto della racchetta, questo primo movimento si accompagna col primo step della gamba destra, cioè la gamba d'appoggio del colpo, quindi lui intercetta che la palla arriverà sul diritto e la prima cosa che fa è prona la mano, quindi inizia una sorta di preparazione con la racchetta e va a caricare sulla gamba d'appoggio che in questo caso per lui è la gamba destra, dopodiché la seconda fase importante è il movimento del braccio non dominante, il braccio non dominante che accompagna la salita della testa della racchetta, vedete come non porta la racchetta indietro ma l'accompagna, la mano è aperta, quindi non è un proprio gesto di controllo ma è di accompagnamento e che gli permette di ruotare tutte le spalle e di aprire il busto portando in una posizione che è quasi perpendicolare alla rete, eccolo qua. L'altro aspetto molto importante è l'altezza della mano che impugna la racchetta, è un'altezza quasi come l'altezza delle spalle, questo serve a creare questo movimento ampio, questo movimento ampio, vedete questo spazio ampio di preparazione tra la testa e la racchetta e il futuro punto di impatto, l'ampiezza di questo movimento e questa rotazione anche dell'anca, del busto permettono di creare spazio tra il corpo e la palla con un minimo movimento e soprattutto permettono anche di trasferire il peso sulla gamba dietro d'appoggio che è la gamba che poi andrà a caricare il movimento. Questa è una posizione in questo momento di comando, voglio risottolineare come il balance del giocatore è sempre rivolto leggermente verso l'alto e soprattutto come la testa di Nole, importante, guarda sempre in avanti, questa è una posizione che gli dà una grande stabilità. Mentre tutto il corpo ruota, rivediamolo dall'inizio il movimento, mentre tutto il corpo ruota sia intorno alla vita sia intorno alle spalle, la sua testa rimane con una visione dritta verso la palla. In questo momento la racchetta è al punto di massima distanza dalla palla con un'ampiezza di movimento e una gamba destra che è pronta ad andare a generare spinte in avanti. A questo punto la testa della racchetta cade per prendere velocità, quindi movimento verticale per andare a reclutare velocità. Il busto è qui il punto di massima distanza tra la racchetta e la palla. Il busto inizia a rilasciare in torsione in avanti e quindi genera velocità anche il busto e andiamo a vedere come, altro elemento importantissimo, il polso va a spezzare, a spezzare il che permette alla testa della racchetta di ricevere ancora più velocità nel movimento e di andare a generare quella spinta e quella spazzolata sulla palla. Un'altra cosa che è importante vedere è come gira la testa della racchetta, la faccia della racchetta guarda sempre da questo punto in avanti verso il basso, passa sempre leggermente inclinata sulla palla. Stiamo attenti, come ho detto prima, alla visione di Nole, alla faccia di Nole che è sempre rivolta verso l'avanti con un balance sempre inclinato, quindi questo aspetto non lo perde mai in tutto il movimento. Qui la racchetta genera velocità, vedete come dall'alto, rivediamo, la racchetta scende sotto l'altezza della palla, spezza il polso e genera velocità per spazzolare. Guardate la spazzolata del colpo, vedete la racchetta tende a guardare in basso da questa parte e nel momento dell'impatto la racchetta è leggermente inclinata sulla palla, segue l'inclinazione del busto, la gamba dietro continua a spingere, a generare spinta, mentre il busto esegue la sua rotazione, vediamo che la spalla destra è arrivata in linea con la sinistra e qui c'è la spazzolata della racchetta. La testa della racchetta guarda ancora verso il basso, quindi c'è una spazzolata continua da questo movimento al movimento di impatto con la testa della racchetta che finisce a quel punto, può anche aprire un po' come fa anche Rafa Nadal, ma è importante vedere come la mano passa completamente chiusa sulla palla e guardiamo come Nole che sicuramente trasferisce poi il peso in avanti e gioca il colpo quasi in una fase semiaerea, soprattutto per quello che riguarda la gamba sinistra, non perde mai però questa inclinazione, non la perde mai e non perde mai questa visione importante, il che gli dà una grande stabilità, una grande posizione per la fase di rientro. Rivediamo il movimento, preparazione, pronazione della racchetta, braccio sinistro non dominante che accompagna la testa della racchetta in alto e la rotazione del busto, mano destra all'altezza della spalla destra, gamba destra che va a caricare, testa in avanti, balance in avanti, la testa della racchetta cade a generare velocità, spezza il polso e si va a spazzolare la palla mentre c'è la rotazione del busto, senza mai perdere la spinta della gamba destra che dà stabilità e la visione, la testa in avanti che dà stabilità al busto. Questo è tutto per oggi, rimanete in contatto, ci vediamo per la prossima videoanalisi.